Ragazzi, si va in scena Sì, arrivo Grazie a questo progetto Abbiamo capito che è proprio vero Everybody needs some basket Sono gasatissimo perché abbiamo dei ragazzi Che vengono da percorsi differenti Ma stiamo diventando una vera squadra E proveremo a vincere anche una bella partita Everybody needs some basket Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti